Buonasera a tutti, grazie dell'invito, grazie a NC Salerno, al Presidente Matteo Cuomo, grazie all'ordine dei dottori commercialisti e esperti contabili di Salerno, un ringraziamento dovuto al Presidente qui accanto a me, Cucer, Presidente nazionale di NC, a tutti i miei colleghi relatori a questa riflessione che facciamo in questo pomeriggio bellissimo a Salerno. Il mio tema è il ruolo dell'esperto negoziatore in rapporti con l'impresa. Devo dire che si sta tentando di decifrare esattamente quale possa essere il ruolo di questo negoziatore. Mentre scendevo giù a Salerno ho fatto una verifica sul sito di Union Camere e ho visto che a Salerno negoziatori iscritti alla Camera di Commercio sono 40 circa, uno più uno meno, incarichi in composizione a Salerno, se non erro, sono due. In tutta Italia ero a un convegno qualche settimana fa con il Presidente di Union Camere, il Vice Presidente Pettinato, credo che ce ne sia una sessantina. Ci sono regioni che ancora non hanno neanche una composizione, se non erro, il Molise o le Marche. Quindi è un istituto che tarda, a mio avviso, a entrare in funzione. Non dobbiamo dimenticarci che non è nuovo come il codice, perché risale oramai a metà novembre del 2021, con il 118 convertito poi a novembre in legge. Quindi diciamo è un istituto che ancora tarda ad entrare in vigore. Tarda, a mio avviso, per la complessità e un po' anche per il fatto che gli imprenditori italiani, i piccoli imprenditori italiani, sono poco propensi a dichiararsi in una situazione di difficoltà, non di crisi o di insolvenza, che lì qualcuno magari ce la fa dichiarare, per provvedimenti, per richieste di danaro, per attività giudiziaria, eccetera. Qui l'imprenditore dovrebbe essere, come diceva molto bene il Dottor Castello, dovrebbe essere previdente avere un'organizzazione come il 2086 ci impone, oramai dal 16 marzo del 2019, è un'organizzazione tale, da un punto di vista degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, per far che cosa? Per captare segnali di difficoltà. E una volta captati i segnali di difficoltà, captare anche l'esigenza di dichiararsi a un ente amministrativo, che è la Camera di Commercio, che poi inizia un ITER, che poi Camera di Commercio imparte, perché sempre queste procedure sono accompagnate dalla richiesta di misure protettive, quindi il Tribunale. E' quindi una situazione molto complessa, allora in una situazione di difficoltà, non conclamata la crisi, non ancora ovviamente in insolvenza, l'imprenditore italiano pensa di risolvere i propri problemi in casa sua e quindi i panni li lava in casa e non li porta all'esterno. E qui ovviamente casca l'asino, cascano le responsabilità dell'imprenditore, degli organi di controllo se ci sono, di tutti coloro che operano e che girano intorno a quell'impresa. Come possiamo risolvere un problema del genere? Credo che è difficile da risolvere, tanto che i dati statistici ci li portano a dire che le misure di composizione sono poche. Non è perché la gente non ha capito, non è perché il professionista, il commercialista o chi per esso non ha compreso ancora l'entità alla portata dello strumento, ma perché siamo propensi a dichiararsi in una situazione post anziché pre, che è quella di risolvere la crisi, in una situazione amichevole, amicale, poi intanto amicale, ripeto, non lo è, anziché, voglio dire, andare a dichiararsi. Ora, in una situazione di questo tipo bisogna fare una riflessione, bisogna fare una riflessione perché noi commercialisti siamo sicuramente chiamati a rispondere anche di un'eventuale situazione di difficoltà che poi si manifesta in crisi o in insolvenza addirittura. Se siamo membri ovviamente di un organo di controllo, lì non ci sono vie di fuga, perché ovviamente lì si deve immediatamente attivare l'organo davanti all'imprenditore, quindi il consiglio è quello di andare immediatamente con una PEC davanti alla composizione. Ma se non c'è l'organo di controllo, ne arriveranno molti, dico prossimamente, con l'approvazione dei bilanci C22, ma fino ad oggi non sono molte le società che hanno l'organo di controllo interno e quindi diciamo è tutto in mano all'imprenditore e al commercialista che gestisce questa situazione. In una situazione di tal genere è chiaro, bisogna fare una riflessione, una riflessione importante, che è quella di dire, di dichiararsi come commercialisti, come professionisti all'imprenditore fin da subito, dicendo che è una situazione del genere e non è possibile gestirla in casa, dobbiamo trasportarla all'esterno. È vero che trasportarla all'esterno potrebbe, come dire, introdurre dei meccanismi di difficoltà, quindi portare l'impresa ad aggravarsi ulteriormente, anche se la norma è di buonsenso, si parla di riservatezza, si parla di doveri da una parte e dall'altra. Quindi il silenzio, il dover fare certe cose non alla luce del sole, ma le stesse banche sono chiamate a non revocare gli affidamenti, sono chiamate a mantenere quegli affidamenti, però la norma poi è subdola, perché a un certo punto, attenzione, salvo che gli organi di vigilanza non impongono una classificazione del soggetto da un punto di vista del rischio bancario in un certo modo. Quindi a quel punto dice, ma io mi dichiaro, ho già la banca, cerco di portargli un bilancio che forse è tanto buono, non è, magari ho alterato come spesso accade, ahimè, le rimanenze, i crediti, non ci sono correzioni o svalutazione, eccetera, ma io ce la faccio. Io vi porto un'esperienza, guardate, io sono stato nominato in una negoziazione nel mese di luglio. Questa negoziazione è andata male per l'imprenditore, ancora non è chiusa, però non è andata bene, diciamo, e l'imprenditore nel momento in cui vedo la situazione ha bloccato i rapporti bancari dal 2017, siamo nel 2022, cioè nessuna banca fa credito a questo imprenditore, ha volumi d'affari molto bassi, cioè volumi d'affari intorno a 5-600 mila euro, a perdite ovviamente che hanno deteriorato totalmente il capitale sociale da anni, 2.482 terra e un SRL, quindi una situazione compromessa. A mio avviso non hanno capito che lo strumento da adottare in quella circostanza non è la composizione, ma è uno strumento che già conosciamo, che possa essere un concordato, possa essere un accordo di ristrutturazione, possa essere addirittura una liquidazione giudiziale. Hanno insistito nelle misure di protezione, le misure di protezione sono stato davvero l'unico banco di prova di questa vicenda, perché il giudice della sezione fallimentare delegato a confermare o meno le misure che sono automatiche nell'immediatezza, ma che poi vanno discusse davanti al tribunale in una vera udienza, una vera udienza dove ci sono le parti costituite, addirittura quell'ordinanza prevedeva di notificare il provvedimento dell'udienza almeno ai primi 10 creditori. Quindi si sono costituiti tutti e 10 creditori e nessuno era a favore delle misure protettive. Bene, la mia relazione in qualità di esperto e ausiliario, che lì magari andrebbe chiarito un po' meglio se siamo esperti o siamo esperti e ausiliari, oppure siamo ausiliari, perché il tribunale potrebbe nominare anche un ausiliario oltre al compositore che è stato nominato dalla Camera di Commercio. Ovviamente la mia relazione è stata negativa non per le banche, ma perché tutti i beni erano pignorati, tutti i beni immobili, avevano previsto degli ordini futuri per cifre astronomiche, un'azienda che aveva un fatturato di 5-600 mila euro, ordini per 6-7 milioni di euro, con clienti che passavano dall'Ucraina al Sud America e hanno insistito per non produrre la documentazione a prova di quegli ordini, per una questione di riservatezza, quando uno dei principi cardine della procedura è proprio la riservatezza. Questo perché se io metto, come dire, spongo quale sono i miei clienti, quale sono le mie macchine che io produco e che andrò a vendere, mi metto a rischio magari di una concorrenza sleale. Il provvedimento delle misure è stato revocato dal giudice, quindi la mia relazione finale è stata una relazione negativa e quindi non si accede neanche al concordato semplificato, perché non c'è stata attività propedeutica per avere una soluzione diversa. Quel provvedimento del giudice è stato reclamato e in questo momento è subiudice, quindi siamo in attesa di cosa deciderà il giudice del reclamo su quell'ordinanza emessa inizialmente. Devo dire tutto questo per dire che cosa? Che quell'impresa non era in difficoltà patrimoniali o economiche finanziarie, ma quell'impresa era un'impresa insolvente, già ormai da molti anni e con tutte le responsabilità penali che ci saranno se quell'impresa ovviamente andrà in una liquidazione giudiziale. Ecco, in un contesto del genere, credo, ce ne siano moltissime di imprese e molte imprese, anche molti professionisti, perché questa impresa era sorretta da un commercialista e due avvocati che sostenevano questa impresa, anche in maniera forte, diciamo, nei loro atti, ecco, non hanno compreso che lo spirito di questa norma, di questa parte del codice della crisi, è quella di andare a risolvere delle questioni che stanno all'interno di un preciso alveo, che è quello della difficoltà. E proprio per questo concetto di difficoltà, io credo che molti imprenditori alzano malvolentieri le mani per dichiararsi davanti al registro, davanti alla Camera di Commercio. Ecco, in un contesto del genere, come deve comportarsi? Qual è il ruolo dell'esperto in una situazione di questo genere? Io credo che davvero il legislatore abbia scommesso molto, un po' in maniera confusionaria, lo rammentava il Dottor Castello, siamo partiti da quegli indici per arrivare a un'altra cosa, quegli indici che l'unica cosa che al Consiglio nazionale era stato delegato era la costruzione degli indici. Il Consiglio nazionale, ne ho fatto parte anch'io di quella commissione, li ha emanati, diciamo, abbastanza velocemente, tanto che non sono stati mai validati dal MISE. Quindi rimarranno una buona pratica, come diceva il Dottor Castello, ma non sono mai entrati in vigore. Poi possiamo discutere se quegli indici erano adatti in una situazione, in un contesto economico, quale era l'attuale, oppure non erano adatti, forse troppo forti e quindi troppo restrittivi. E anche la metodologia per arrivare alla composizione non era un atto di volontà, come dire, soltanto dell'imprenditore, ma erano i terzi, in qualche modo, a portarti davanti alla composizione, in quel caso. Quindi davanti all'Ocri, a quell'organismo camerale. Quindi in un contesto del genere quella scommessa, a mio avviso, ancora è da vedere come si risolverà. Ecco, non è una scommessa vinta, a mio avviso. Siamo in una fase ancora di comprensione. Forse occorreranno dei correttivi, non so se ce le saranno. Occorrerà comunque sia un'opera da parte dei professionisti, verso i propri clienti, facendo presente che non è un gran male presentarsi davanti alla composizione. Dobbiamo far capire che se comunque quella composizione non viene attivata, le responsabilità per l'imprenditore e le responsabilità, ovviamente, per tutti coloro che gravidano intorno all'imprenditore, saranno delle responsabilità non banali. Quindi, a questo punto, diciamo, c'è la figura del professionista, dell'esperto. Una figura strana. Perché, sinceramente, io tanto esperto non lo trovo, questo uomo. Questa figura, no? Perché non lo trovo? Guardate, basta andare al secondo coma dell'articolo 16. Se era un esperto, era un esperto a 360 gradi, mentre la norma, l'articolo 16, ci dice espressamente che questo professionista, come dire, ha l'esperto nominata ai sensi, eccetera, scusate, no, eccolo qua, l'articolo 16, eccolo qua, può valersi di soggetti dotati di specifica competenza, anche nel settore economico in cui opera l'imprenditore, o di un revisore legale. Cioè, è, diciamo, un coordinatore, è un buon facilitatore, è uno che cerca di mettere al tavolo l'imprenditore e qualche creditore. Però non è un esperto a 360 gradi, non lo può essere, sarebbe, come dire, qualcosa di impossibile da richiedere. Quindi ecco che quel professionista ha necessità, per alcune circostanze, di dotarsi di professionalità all'atere. Perché così non è sicuramente nelle condizioni di poter gestire una situazione di grande complessità. Perché di complessità? Perché l'imprenditore, perché l'esperto è davvero chiamato a compiere tante attività, ma veramente tante attività. E quale sono le attività? Non sono quelle del commissario giudiziale, eh, non sono quelle dell'attestatore. Perché l'esperto non è un pubblico ufficiale, come il commissario giudiziale. L'esperto è un libro professionista che agisce sul nomina di questa commissione camerale, andando, seguendo, diciamo, delle buone pratiche che il Ministero ha indicato in quella circolare del 27 settembre del 2019, andando a fare alcune verifiche puntuali, cercando di facilitare. Cioè il termine facilitatore lo adopta il legislatore, quindi facilitare. Ecco perché nella formazione professionale dell'esperto si chiede anche, come dire, la conoscenza dei principi di mediazione. Proprio per il fatto che l'esperto dovrebbe mettere insieme. Ma il punto di domanda è questo. Ha tanta autorità questo esperto per poter arrivare a mettere insieme le parti e farle ragionare su un progetto e che quel progetto poi possa avere un buon esito. Oppure quell'esperto non ha gli strumenti per poterlo fare, quell'esperto non ha l'autorevolezza per poterla fare. E allora se un professionista accorto, un commercialista accorto che segue l'impresa non è stato capace di poter mediare, se ammesso la mediazione sia stata possibile, con tutti i soggetti che vantano credito, che comunque intrattengono rapporti con l'impresa per poter risolvere la questione. Quindi c'è necessità di una figura di tal genere. È vero che le attività compiute nel periodo che va tra la domanda e la procedura sono operazioni, diciamo, protette se non compiute in maniera straordinaria, ma tutte le operazioni che sono state in qualche modo portate a conoscenza dell'esperto. Però la questione è in questi termini. Quindi l'esperto agisce con delle modalità che potrebbero essere modalità proprie di un professionista attento che segue l'impresa. Ma se quel professionista attento che segue l'impresa non è riuscito nell'obiettivo di risolvere la questione, mi chiedo come sarà possibile che l'esperto, tanto che i risultati ipocitano risultati al momento negativi, sarà possibile che l'esperto possa risolvere problemi non risolti da parte dell'impresa? Oppure ci sarà qualcuno, ci sarà l'imprenditore con pretesti che accederà alla procedura, come quell'esempio che vi ho portato, che ho seguito, per arrivare magari ad ottenere strumenti che la legislazione prevede per poter risolvere la crisi con strumenti di composizione che noi conosciamo. Uno per tutti il concordato semplificato. Che non è semplice arrivare perché occorre fare delle trattative per poi arrivare a ciò. Quindi in una situazione del genere il professionista è molto più simile a un advisor finanziario, a colui che non ha disciplina, che non è disciplinata la sua attività, che non ha una tutela giuridica, ma è un soggetto, un professionista che segue, nel caso dell'advisor finanziario, magari la costruzione di un progetto di risolamento di un'impresa per un concordato preventivo. Quindi siamo di fronte a una figura, come dire, un po' particolare, ibrida. Quindi non una figura che abbia, come dire, una connotazione puntuale come lo ha, per esempio, il commissario giudiziale. Deve avere un approccio alle soluzioni. E qual è questo approccio? Si parla di polivalenza, cioè anche se dovrà farsi aiutare in determinate circostanze da soggetti specializzati. Dovrà avere un mutuo adattamento, dopo dei termini che magari ho coniato per questa circostanza. Che vuol dire mutuo adattamento? Cioè cercare di plasmare la sua conoscenza e il suo sapere a quella che è la situazione imprenditoriale rispetto a quelli che sono in desiderata dei creditori per arrivare a ottenere un risultato. Un lavoro di squadra, la collaborazione. Facilitare le trattative con i creditori. In tutto questo si connota una grande responsabilità, una grande responsabilità del professionista, che non ha tutele, non ha paracaduti, escludendo momentaneamente le responsabilità di tipo penale. E quindi che quelle ci sono e quelle restano, ma insomma sono responsabilità che conosciamo e poi hanno riflessi non banali in un'eventuale liquidazione giudiziale. Cioè quello che era il fallimento, no? Quelli erano gli articoli, conosciamo, 206, 217, no? Se quell'esperto in qualche modo ha procrastinato quella situazione che non era da procrastinare. Se quell'esperto ha fatto fare, ha condiviso delle operazioni di ristrutturazione su quel progetto di risanamento. Quindi quale sono le responsabilità del professionista esperto? Eh, a mio avviso questo è non solo da sottovalutare, però la responsabilità del 1176, che è la diligenza nell'adempimento dei compiti funzionali, quella resta. Quella resta. Guardate, fare il... qui e qua abbiamo un importante magistrato, rammettava il dottor Kuhl, che io ascolto ormai da tanti anni ed è di una bravura, credo unica, il panorama nazionale. Questo io non pago il caffè a nessuno. No, non lo so, lo so, ma ci conosciamo da molti anni, quindi diciamo... Scusa, la sto seguendo con molta attenzione. E quindi diciamo... Però in una situazione, in una situazione di questo genere, in una situazione di questo genere, non è da sottovalutare il perché non si è creato una sorta di ombrelle paracadute anche all'esperto negoziatore. Perché fare il curatore o il commissario non è semplice, ma non è neanche così difficile, perché abbiamo, diciamo, una copertura importante, quella del giudice delegato. E' chiaro che ora qua si potrebbero, come dire, addossarmi le, come dire, responsabilità di tipo, di non voler condividere, come dire, un'apertura di vedute, essere ancora ancorato a questioni di tipo pubblicistico anziché ovviamente vedere il mondo oltre la finestra. Però lavorare in simbiosi con il magistrato è molto più semplice che lavorare. Io mi sono sentito solo nella procedura sulle misure protettive davanti al giudice. Sapete cosa mi ha detto il giudice in quell'occasione? Io cercavo di mitigare, io non sono abituato a far fallire un'imprenditore. Cioè dire no significa andare in una procedura di liquidazione. E mi sono sentito non tranquillo. Non mi sono sentito, probabilmente neanche un magistrato, quando viene messo una sentenza di liquidazione giudiziale sarà tranquillo. Assolutamente no. Ma io non abituato, non sono tranquillo. Il magistrato mi ha detto, guardi, lei mi deve dare una risposta, sì o no. C'è quel piano di risanamento scritto male, fatto male, con 7 milioni di ordini nei prossimi 3-4 anni inesistenti o quasi, con una situazione compromessa. Lei mi deve dire, ci saranno possibilità di continuità aziendale? Ci sarà la possibilità di riprendere qualcosa e si è interrotto in un cortocircuito oppure no? Perché questa è la questione. E a quel punto ha detto, bene, anche perché i documenti mi erano arrivati il giorno prima, ha detto, le do un altro termine, 15 giorni, ma mi risponda. Quindi la risposta ovviamente è stata no. No, perché è giudice su quel provvedimento. Ovviamente poi libero di, come dire, non prenderlo assolutamente in considerazione, ha deciso no alle misure protettive. Insomma è stato un passaggio, come dire, per me, credetemi che ormai qualche anno ce l'ho di esperienza, non è stato un passaggio, come dire, molto molto semplice. Ecco, questo è. Che cosa fa l'esperto, andando a trovare un po' di attività, scrutando gli articoli? Agevola, valuta, si esprime, convoca le parti, stabilisce cadenza al ritmo del processo negoziale, informa, riferisce, è consultato, si esprime, facilita, stimola, consente, redige una relazione, viene sentito al tribunale, rilascia parelli, segnala, esprime il dissenso, ha facoltà di pubblicare il dissenso, procede, invita, sottoscrive, partecipa, richiede, comunica, eccetera, eccetera. Cioè, queste sono le tante attività che l'esperto da solo, non è che il segretario generale della Camera di Commercio può essere consultato, da solo, di fronte all'imprenditore che insiste magari a dei professionisti validi, a dei legali validi, in cui lo contraddicono nelle sue posizioni, in cui dice, ma come, non ha sentito l'istituto di credito? Non ha fatto, no, no, ma lì abbiamo possibilità, quel creditore è d'accordo, ma ce ne sono attriccente, è l'erario, è l'erario, come si colloca in questo panorama? L'erario, qui non c'è la transazione fiscale, qui non siamo di fronte a dire io, come dire, cerco o cram down per non farli votare. Qui bisogna trovare, come dire, un paradigma che possa in qualche modo mettere tutti in condizioni di tranquillità, di essere soddisfatti. Ma non è il soddisfacimento che conta, è la continuità aziendale. Non dobbiamo dimenticarci che la composizione negoziale, al di fuori della procedura di concordato o semplificato, è una procedura di continuità, cioè siamo a salvaguardare la continuità aziendale. Cioè, siamo a cercare di rimettere in moto quella macchina che il motore si è spento a causa, magari, della mancanza di denaro per comprare in quel momento la benzina. Ma i denari ci sono, arrivano in qualche modo per fare un rifornimento. Ecco, questa è l'attività che deve porre in essere il professionista. E poi l'indipendenza. Io anche qua, io faccio il vicepresidente dell'ordine dei dottori commercialisti di Firenze. Quindi, fra le tante cose, anche questa. Io là dentro, ogni tanto, come dire, sulla storia dell'indipendenza, le segnalazioni ci arrivano. Ci arrivano, perché fra professionisti ci sono i batti vecchi, perché la contabilità la teneva il professionista A e la professionista B. Vedo delle cose che urtano, a me personalmente urtano, quella di essere consulenti e revisori dell'impresa. A me urtano. E questo è un fatto comune. Noi, categoria su questo, ce lo vogliamo dire? Ovviamente, è una cosa ancora possibile in un contesto, in un panorama giuridico, quale è questo, in cui si parla di indipendenza dell'esperto, ma l'indipendenza del consulente rispetto al revisore. È una cosa, come dire, da sottovalutare? No, perché se la sottovalutiamo, come dire, a priori, poi qualcuno, un pubblico ministero, non la sottovaluta, questo aspetto. Perché non si può essere, come dire, nello stesso momento, consulenti e revisori nella medesima società. Il professionista deve fare un'analisi, deve dichiarare la sua indipendenza, ma non soltanto la sua, oppure incompatibilità ai sensi del 2399, ma un'altra questione. Deve dichiararla, ma non soltanto lui, ma anche verso coloro che ha rapporti di tipo associativo, e io dico anche di più, cioè di essere anche in una società tra professionisti, perché il legislatore ad opera associazione professionale, ma società tra professionisti è la medesima cosa. E guardate, questa roba dell'indipendenza, secondo me, è stata scritta molto bene e poi studiata molto bene, nell'articolo 67, vecchia legge fallimentare, terzo lettera di, quando si va a qualificare l'esperto, è la prima volta lì che si qualifica un soggetto, o quanto meno, cerca di qualificare il soggetto dal punto di vista dell'indipendenza. E da lì occorre rifarsi, quindi l'esperto deve essere davvero libero di fronte a quell'imprenditore. Se non è libero, perché magari in una città come Salerno, non molto grande, vi potrebbe essere in qualche modo legami, rapporti con la banca, rapporti con il professionista che segue l'azienda, con gli organi di controllo, eccetera. La mia opinione, proprio per la mancanza di paracaduti e di ombrelli che in qualche modo riparano dall'acqua, dovremmo non accettare quell'incarico, dovremmo non accettarlo, perché se noi andiamo avanti in un percorso del genere e la procedura, la negoziazione non viene a, come dire, a compiersi, ecco, la responsabilità probabilmente in quel caso è una responsabilità molto più complessa, molto più complessa. Ecco, diciamo, in una situazione del genere io credo che vi debba essere l'indipendenza, l'imparzialità, oltre che la riservatezza, che è difficile, perché se non passa il principio della riservatezza, ma non soltanto dell'esperto, la norma dava indicazioni, quando ancora era disciplinato l'OCRI, che gli uffici del segretario generale, perché da lì anche parte la questione, parte la questione, perché se tutti sanno che quell'impresa si trova a candire davanti alla negoziazione, chi mai continuerà ad assistere, chi mai continuerà a dare forniture, a dare denaro? Nessuno. Quindi la riservatezza è un elemento fondamentale nel processo della composizione. Quindi questo non è, non possiamo, non possiamo assolutamente, dico, non considerarla. E questa facilitazione dei rapporti come avviene? Quindi noi sappiamo che l'esperto, la norma ci dice, deve convocare immediatamente le parti. E che fa qua? Io li ho convocate le parti. La prima mi ha detto, guardi, io non vengo domani, ma verrò fra 15 giorni, ho del lavoro, non ce la faccio. L'altro dice, guardi, ma io vengo a 500 km, chi mi paga il viaggio per poter venire a un tavolo, eccetera. Quindi non ho trovato io, nonostante che vi sia un obbligo, un dovere a mettersi ad un tavolo, però ho trovato difficoltà io a mettere insieme le persone che hanno interessi, perché in questa procedura avevano pochi interessi a farla continuare, ma nella generalità dei casi probabilmente le difficoltà a mettere a un tavolo anche soggetti davanti a un esperto, a un facilitatore, non a un'autorità, non a un pubblico ufficiale, che in qualche modo se ti convoca, ti convoca. E se non viene, come nel caso del primo incontro con l'ex, quello che era il fallito, puoi chiedere l'accompagnamento da parte della forza pubblica. Quindi se non viene, non viene. E allora se non viene e non hai la possibilità di mettere insieme questi soggetti, hai di fronte un progetto di piano di ristanamento che ha qualche difficoltà, quantomeno da un punto di vista della costruzione, magari non ha seguito le best practices della circolare. C'è un test, come diceva il dottor Castello, che ovviamente ci impone, come dire, una revisione, perché non dobbiamo dimenticarci che il test è che l'imprenditore ha predisposto o che predispone insieme all'esperto. È un test che è molto semplice, lo conoscete, davvero sono quattro numeri da mettere insieme, che poi ci dà il risultato di uno, due, tre, quattro, sei e il ministero ci dice, guarda se arriva uno, bene, arriva due, attento, quattro. Cioè, allora, quei numeri vanno visti, vanno analizzati, perché diciamo, quelli che sono i ricavi prospettici, che poi servono i flussi, che servono poi per adempiere a quelli che sono le obbligazioni, cioè quello che è il DSCR, ci lo ha mentato il dottor Castello. Come facciamo, voglio dire, a analizzarli in maniera puntuale, se non vi è un'attenzione, una conoscenza, un'informazione, una collaborazione di tutti i soggetti partecipanti all'iniziativa. Insomma, io credo che questa attività sia un'attività molto complessa, un'attività molto difficile, che non è da sottovalutare, non peraltro per quanto riguarda le responsabilità. Inoltre, è così, comprende l'imprenditore di essere entrato in un meccanismo di controllo, di tutela, tra virgolette, non so se è anche il termine esatto, perché deve comprendere che le operazioni straordinarie, e poi sempre la circolare ci dice anche, identifica quale sono le operazioni straordinarie che può compiere e quelle che non può compiere, non le può compiere se non c'è la comunicazione all'esperienza, ma non l'autorizzazione, perché se vi è l'autorizzazione è chiaro, ma non le può compiere se quell'operazione è un'operazione che potrebbe andare a inficiare il buon esito del piano di sanamento. E se quell'operazione viene compiuta con il dissenso da parte dell'esperto, l'esperto immediatamente deve comunicare il proprio dissenso al registro delle imprese, cioè deve diventare dominio pubblico questa informazione, perché altrimenti ne va di mezzo lui per quell'operazione. Quindi allora davvero lì vi può essere una bancarotta che il pubblico ministero potrebbe rilevare in una fase successiva. Quindi in questo contesto l'attività a mio avviso più difficoltosa è quella di comprendere il test, capire quel progetto di sanamento e meno male il legislatore lo ha introdotto già nella prima fase, perché non si parlava di progetto di sanamento. Quindi si dava alla circolare magari di formulare anche susseguentemente un progetto. Oggi se non si arriva con un progetto di sanamento da inserire dentro la piattaforma telematica è uno dei documenti fondamentali, non si può andare avanti. Così come nelle misure protettive. Al giudice delle misure devi dire qual è il tuo piano di sanamento. Cioè in qualche modo è speculare anche i documenti, sono speculare i documenti da presentare al giudice delle misure. Quindi in una situazione di questo genere deve avere molta attenzione al test, molta attenzione al progetto di sanamento, deve capire se quei creditori, perché ne ha l'obbligo di fornire un elenco con i gravami eventualmente, sono quelli. Quindi dovrà circolarizzare, dovrà verificare se quella contabilità è attendibile. Ecco, in un contesto del genere questi sono gli elementi essenziali. Se ha collaborazione, se ha professionisti validi, se ha soggetti che in qualche modo hanno compreso di che cosa stiamo parlando, probabilmente l'esperto può avere tranquillità nella sua gestione, o quantomeno può proseguire il percorso. La verifica della situazione contabile. Guardate i tempi sono tutti ristretti, 180 giorni, sono sei mesi per partire e chiudere. Non è che sono molti 180 giorni, no? Però la verifica è la situazione contabile. Quindi occorre mettersi a controllare la contabilità di qualche anno, capire se quella contabilità è attendibile, se i principi sono stati rispettati, se la valorizzazione delle poste sono corrette. È un compito che potrà utilizzare un ausiliario, ecco, un esperto, se non lo è, o se ha difficoltà nell'organizzarsi, in tal senso. Dovrà capire, per esempio, se quelle misure protettive che sono state, alle quali lui darà il parere, sono davvero propedeutiche alla continuità aziendale. Quindi dare quel parere, vi dicevo, è un parere poi alla fine fondamentale per la prosecuzione dell'attività. E infine la relazione finale. Credo che la relazione finale sia davvero l'elemento culminante di un'attività complessa svolta, perché nella relazione finale dovrà indicare analiticamente, anche per riscuotere, anche per riscuotere, perché da lì poi si misura anche il compenso del professionista. L'attività svolta dall'esperto, l'eventuale concessione o meno di misure protettive, lo Stato e le eventuali misure cautelari, la sospensione degli obblighi di cui ha la ricapitalizzazione. Cioè, capitale è una misura da dover richiedere, quindi capitale ridotta al di sotto del minimo. Ovviamente lì è comprendere se quel capitale inesistente, o comunque sia ridotta al di sotto del minimo legale, alla fine del processo si ricostituisce, perché nel momento in cui la procedura di negoziazione si chiude, quel capitale deve riformarsi. Quindi anche lì l'attenzione da parte dell'esperto dovrà esserci. E quindi in che modo c'è propensione a portare denaro da parte dell'imprenditore? O come si arriva a ricapitalizzare quell'impresa? Le autorizzazioni eventualmente acconcesso per atti di straordinaria amministrazione, le considerazioni sulla perseguità del risanamento, e quindi poi alla fine la possibilità di poter accedere a una di quelle procedure che la norma ci indica. Ecco, io mi fermerei anche qua, non vorrei darvi ulteriori informazioni sui gruppi, perché voi sapete il codice per la prima volta di disciplinare i gruppi, e anche nella fase della composizione l'esperto può essere l'unico esperto, un esperto in un eventuale gruppo di imprese per poter gestire una composizione. Quindi ovviamente più grande è il gruppo e più complessa diventa ovviamente l'attività. Grazie. Grazie.